Venerdì 27 aprile alle ore 10.30 in un hotel del centro storico della città si terrà il primo congresso territoriale interprovinciale dello SNALV, sindacato nazionale autonomo lavoratori CONFSAL di Caltanissetta, Enna e Agrigento. In una nota si legge che il dibattito sindacale sarà un momento importante per discutere delle tante vertenze sin cui portate avanti dal sindacato SNALV. La relazione introduttiva sarà di Carmelo Oliveri e a seguire gli interventi di Manuel Bonaffini, attuale commissario interprovinciale dello SNALV, Andrea Morreale, Michele Ferro e Melania Lombardo, delegati e invitati. Prevista anche la partecipazione del segretario regionale Rosario Meli e degli RSU, rappresentanti sindacali unitari, eletti nei diversi enti. Lo SNALV CONFSAL, nato nel 2008, si prefigge quale obiettivo primario? Quello di offrire a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati la diffusione, la salvaguardia e la tutela del diritto dovere al lavoro, si legge sul sito ufficiale del sindacato.